La nonna di 70 anni è morta sul colpo, le due nipotine di 6 e 4 anni è ricoverata in prognosi riservata, tre auto distrutte, la statale 42 bloccata per ore ed un sabato da dimenticare. È drammatico il bilancio dell'ennesimo incidente sulle strade della Valle Camonica, l'ultimo di questo sabato sera di pioggia, dopo che una famigliola di Sovere, già coinvolta in un incidente stradale a Sulzano nel pomeriggio, sta tornando a casa dall'ospedale di Isine. Sono tutti a bordo della Nissan Micra del nonno, viaggiano un po' scorsi verso casa, il nonno alla guida, accanto il papà, sul sedile posteriore, mamma e nonna, con in braccio le due bimbe. Finalmente questa giornata da incubo sta per terminare, purtroppo non è così, il peggio deve ancora arrivare. Giunta all'altezza di Gianico, al chilometro 71, la piccola utilitaria si scontra frontalmente con una golf che arriva dalla direzione opposta. Potrebbe essere un salto di corsia oppure un sorpasso, ancora un malore, l'origine dell'incidente. Lo stabiliranno gli agenti della polizia stradale di Iseo e Brescia che hanno effettuato i rilievi di legge. L'impatto è tremendo, le di auto si centrano frontalmente, carambolano, poi la micra viene tamponata anche da una Ford Fiesta che la segue. Il resto è un groviglio di lamiere, lampeggianti ed urla di sirene che squarciano la notte. Ai primi soccorritori giunti in posto la situazione si presenta subito drammatica. Sette le persone incastrate fra le lamiere delle auto. Solo il conducente della golf, scioccato, scende dall'auto con le proprie gambe. Quando i soccorritori riescono ad aprire la micra, per la signora più anziana sul sedile posteriore non c'è nulla da fare. Brunella Corti, questo il suo nome, non ce l'ha fatta e praticamente è morta sul colpo. Si lavora freneticamente per tirare fuori tutti dalle auto. Anche le due bimbe sembrano gravi. Dopo minuti che sembrano ore, i sei occupanti della micra sono fuori. La donna viene adagiata sul ciglio della strada. Una delle bimbe viene trasferita all'ospedale di Bergamo con l'eleambulanza insieme alla mamma. L'altra, con il papà, viene avviata all'ospedale di Brescia. I genitori non sono in pericolo di vita. Le due piccole sono in prognosi riservata. Il nonno, trasportato all'ospedale di Lovere, non è grave. Non lo è neppure la 37enne di Attonia, la guida della Fiesta, che dopo un'ora di lavoro viene strata dall'auto e trasferita all'ospedale di Esine, dove viene medicato anche il conducente della Golf, un 56enne di Cedegolo. In zona, un via vai di ambulanze. Ne arrivano da Darfo, Camuni a soccorso, da Pisogna, Santa Maria Assunta, da Sale Marasino, con i volontari dell'ANA. Imposto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Darfo, quelli di Lovere, che poi rientrano. I carabinieri della liquota radiomobili della compagnia di Breno si occupano dei primi rilievi, poi di deviare il traffico. Imposto anche i carabinieri della stazione di Pianconio, che quindi danno manforte alla polizia stradale, presente con due pattuglie, da Iseo e Brescia, che si occupa dei rilievi. Toccherà a loro ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. È quasi notte, quando si possono recuperare i mezzi, d'arriva il carro funebre che porta la salma della signora Brunella all'ospedale di Esine. La strada è ancora chiusa, verrà riaperta solo in tarda serata, dopo le 23, dopo che l'ANAS ha provveduto anche alla polizia della sede stradale. Grazie. Grazie.